Questo è Wenderland Ah, amici, è incredibile, anche oggi torna un altro appuntamento sugli scherzi telefonici dello 605 Wenderland, ma voglio essere circonciso Benissimo, ieri sono partito con degli nuovi scherzi con le voci di Maccio Capatonda Tratti dal trailer La terra dei morti contributi Nel finale dello scherzo di ieri avevo chiamato lui Bestemmian Man Ma poi ho tagliato perché ho dato l'appuntamento a oggi Ah, voglio tenervi incollati alla radio E allora torna lui, Maccio Capatonda Siamo pronti, andiamo? No! E invece sì! La terra dei morti contribuente Sei scemo, lo sai Pronto? Pronto Pronto? Mi dica E lei che hai chiamato? Sono Eddie Larva E chi è? Lo sa che oggi mi hanno assunto Ma scusi, con chi vuol parlare? Mi lasci stare, la prego Ma scusi, lei chi è? Sono Eddie Larva E perché hai telefonato qua? Finalmente mi potrò comprare la panda E allora? Eh, sono contento per lei, ti compri la panda, buongiorno No! Sei pazzo, lo sai Pronto? Pronto? Che parla? Sono Eddie Larva Sì? Sono Eddie Larva No! La terra dei morti contribuenti Lo scusi, i coglioni Bastardo, che gli puttano Bastardo, bastardo, bastardo 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 No! Bellissimo Lui c'è il bastardo? Come stai? Sei bene, bastardo? Mi lasci stare? Lei è uno zombie! E qui a puttare mamma No! Sei pronto? Pronto? Pronto Chi sono? Chi parla? Sono Eddie Larva Eddie Larva Mi dispiace, non la conosco No! Poverina! Mi lasci stare? Lei è uno zombie! Ho visto una cosa che mi ha scioccato Sono vecchi, sono morti E sono ovunque! Capito Capito No! Scusami Non si prevolgo più Lo sa che oggi mi hanno assunto? Dove? È il giorno più felice della mia vita mia Sì, e dove è che ti hanno assunto? Finalmente mi potrò comprare la panda Ho capito, ma tutto passa No! Perché parli qua? Eh? Pronto Perché parli così? Pronto Lui Pronto Ma aiuto! Ma cosa vuole? Sì, cosa vuole? Mamma Pronto 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 Sono Eddie Larva Sono Eddie Larva Pronto 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 Ma cosa fa? Macinano le corrette Chiudere sui di pepe Chiuda 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 Chiudano No No Niente Nessuno Io ero attaccato Fai le spremute di corrente Che roba Chiuda Chiuda Pronto Pronto Ma lascialo stare Pronto 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 Chi sono? Sono Eddie Larva Lo sa che oggi mi hanno assunto Si carica Eddie Larva Sono Eddie Larva Larva Lo sa che oggi mi hanno assunto Lo serio? Si carica Quali i messaggi? Eccolo Eccolo Nooooo Come andrà a finire? Scoprilo domani Sei una merda